Il restauro del fienile della vite bella si farà. La Fraternita dei Laici, proprietaria della struttura del Poggiale nel comune di Castiglion Fibocchi, ha infatti presentato alla regione toscana un progetto di recupero della struttura che ha fatto da set per alcune scene del film da Oscar come quella di Buongiorno Principessa, il primo incontro tra Guido e la sua Dora. L'immobile era crollato qualche mese fa cedendo alle intemperie ed adesso l'annuncio via social del primo rettore Pierluigi Rossi. Stamani scrive nella sua pagina Facebook «Sono stato in regione per presentare il progetto di restauro della Casa Leopoldina del Settecento. Desideriamo restaurare questa secolare casa contadina per creare un luogo dove testimoniare la storia del paesaggio agricolo toscano che è stato ed è un paesaggio alimentare legato alla produzione agraria di qualità, all'architettura rurale, allo studio e alla valorizzazione della biodiversità agroalimentare della Toscana, alla memoria dei lavori dei contadini nei secoli in terra toscana, un progetto d'identità e senso di appartenenza ad una terra, ad una comunità, valori essenziali per guardare verso il futuro, ripartire dalla terra per superare questa pandemia virale». Rossi infine conclude annunciando di voler aggiornare passo passo sull'evoluzione del progetto. Grazie. Grazie.